In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Sia lodato Gesù Cristo, Maria Sede Sapientiae, ora pro nobis. Carissimi fedeli, bentornati a questa rubrica del commento al Vangelo della Domenica. La Domenica prossima è la quarta, Domenica dopo Pasqua, e il Vangelo che leggiamo è quello di San Giovanni, capitolo 16, dal 5 al 14. Leggiamolo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, adesso vado da colui che mi ha mandato. E nessuno di voi mi domanda dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza aveva riempito il cuore. Tuttavia, io vi dico la verità, vi conviene che io vada. Perché se non vado, non verrà a voi il Consolatore. Se invece io vado, ve lo manderò. E venuto egli confonderà il mondo quanto a peccato, a giustizia e a giudizio. Quanto a peccato, perché non credono. Quanto a giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto a giudizio, perché il Principe di questo mondo è giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma adesso non siete in condizioni di portarle. Quando però verrà lui, lo Spirito di verità, vi introdurrà a tutta intera la verità. Egli infatti non parlerà per conto suo, ma dirà quanto ascolta, e vi annunzierà le cose da venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio per comunicarvelo. Ecco, carissimi fratelli, carissimi fedeli, questo discorso che Gesù fa è uno dei discorsi che appartiene all'ultima cena. Almeno in quella ambientazione lo inserisce l'Evangelista Giovanni. Fa parte di quegli annunci enigmatici con i quali Gesù vuole in qualche modo preparare i suoi apostoli, i suoi discepoli, a quanto dovrà accadere di lì a poco, dall'orto degli olivi in avanti. E gli apostoli sono sempre più smarriti. Ecco, il sentimento che provano, è detto bene in questo brano di Vangelo, è la tristezza. Gesù aveva già parlato del tradimento, aveva già annunciato in qualche modo la passione morte, ed ora sta parlando di questa partenza, perché io vado al Padre. E dunque, noi rimarremo soli, noi resteremo abbandonati, tu non ci sarai più e noi? E allora il Signore fa capire che non devono essere tristi perché a loro conviene che Lui sparisca dalla loro vista e vada al Padre. Conviene, perché solo in questo modo Egli potrà mandare a loro il dono dello Spirito Santo Consolatore, altrimenti non lo avranno. E' solo dopo l'ascensione che sarà possibile la Pentecoste. E questo Spirito avrà un ruolo fondamentale, perché avrà tre funzioni, in modo particolare vengono elencate in questo brano di Vangelo. Confonderà il mondo riguardo al peccato. Questa traduzione, che è quella che si trova in questo messalino che tanti di voi hanno, confonderà il mondo. E' la traduzione del verbo arguere, c'è questo verbo nell'originale latino, no? Cioè condannerà, lo Spirito Santo condannerà il mondo e lo accuserà dimostrandone chiaramente la colpa. Riguardo al peccato. Quale peccato grave, gravissimo ha compiuto il mondo? Certo, il mondo giudaico, Giovanni Evangelista, aveva in mente quel mondo. Ma possiamo applicarlo al mondo in generale. Il mondo è quella realtà che è stranea a Gesù Cristo. Qual è il peccato del mondo? Il peccato del mondo, del mondo di ogni tempo, è il non credere, l'incredulità, nonostante abbia l'evidenza delle opere di Cristo, che sono opere buone che vengono dal Padre. Nonostante abbia visto la luce, il mondo ha chiuso gli occhi alla luce per non credere. L'incredulità è stata la grande colpa che ha poi portato alla morte in croce del Signore, del Figlio di Dio, all'uccisione del Figlio di Dio incarnato, la più grave colpa che si possa commettere. Quindi lo Spirito Santo porterà in evidenza questa colpa. Poi confonderà il mondo quanto a giustizia. Perché? Perché quando lo Spirito Santo scende potentemente nella Pentecoste è la dimostrazione chiara che Gesù è salito al Padre per concedere questo dono. E quindi Gesù non era colpevole quando è stato ucciso, ma era il giusto. Voi avete ucciso il giusto. Quindi la discesa dello Spirito Santo sarà la dimostrazione che Gesù era giusto e avete messo in croce il giusto. Quindi confonderà il mondo quanto a giustizia. Il Padre, mandando lo Spirito Santo, renderà giustizia a Gesù e lo proclamerà giusto davanti a tutti. Poi dice che lo Spirito Santo ancora cosa farà? Confonderà il mondo quanto a giudizio. Perché il Principe di questo mondo è giudicato. In effetti lo Spirito Santo nella Pentecoste e anche dopo, nelle epoche della Chiesa, che cosa farà? Giudicherà l'avversario, giudicherà Satana, condannerà Satana, sconfiggerà Satana, perché lo Spirito Santo riporterà vittoria nelle anime di tutti coloro che crederanno. Nelle anime dei credenti il regno di Satana è giudicato, condannato e sconfitto. Queste sono le tre funzioni principali dello Spirito Santo. Naturalmente gli Apostoli cosa avranno capito di questo discorso in quel momento? Loro che erano già profondamente tristi nell'animo e non avendo vissuto ancora questi avvenimenti, gli annunci di per sé, anche già enigmatici, li lasciano smarriti. Gesù dice, non preoccupatevi, adesso non potete sapere tutto, perché non riuscireste a portare questo peso, ma sempre lo Spirito Santo vi condurrà alla verità tutta intera e voi potrete svolgere quella missione per cui siete stati chiamati. Quindi lo Spirito Santo assisterà la Chiesa in tutti i secoli, in tutti i secoli. Prima attraverso il grande avvenimento della Pentecoste all'inizio, ma poi dopo attraverso l'amministrazione dei sacramenti, le anime riceveranno lo Spirito Santo. Il Magistero della Chiesa sarà sempre assistito dallo Spirito Santo per conoscere sempre di più la verità di Cristo Gesù e i dogmi della salvezza. La Chiesa in questi secoli, in questi duemila anni, è cresciuta nella conoscenza dei misteri grazie proprio all'assistenza dello Spirito Santo. Quindi perché non era in grado di portare il peso di tutta quanta la verità. Il Signore la fa conoscere nell'arco dei secoli. Certi dogmi all'inizio non erano chiari. Sono stati chiari dopo i concili, dopo le dichiarazioni dei papi, eccetera. Questo è molto importante. Ecco, cosa fa lo Spirito Santo in noi, carissimi fratelli? Quello Spirito Santo che già vive in noi per il battesimo e che già è stato alimentato grazie alla fede, la fede che quotidianamente rinnoviamo recitando il credo. Ecco, lo Spirito Santo scende in noi, ci porta alla verità, ci sostiene nella nostra lotta contro Satana e rende giustizia e testimonianza riguardo a Gesù Cristo nel nostro cuore e condanna l'incredulità che è la cosa peggiore che ci possa essere. Non essere incredulo, dice Gesù a Tommaso, ma credente. La vera vittoria è la vittoria della fede, ma questa vittoria la possiamo riportare non con le nostre forze umane, ma con lo Spirito Santo che in noi è presente e agisce. Il fatto che lo Spirito Santo è presente dimostra che Gesù dal cielo, dal Padre, ce lo ha mandato. Gesù è vivo, è presente, dona lo Spirito e dentro di noi abbiamo la testimonianza vivente della verità di Gesù Cristo. Sono cose grandiose, carissimi fratelli, sono cose che superano le nostre capacità anche mentali, sono misteri. Quindi noi dobbiamo chiedere umilmente e per l'intercessione di Maria Santissima in questo mese di maggio che ci introduca piano piano dentro queste cose, non tanto perché le capiamo con la nostra mente, ma che ci introduca con la nostra vita. L'importante è che ci siamo dentro, questi misteri. Non è fondamentale capirli. Sì, capire quel tanto che Gesù ci concede di capire. L'importante è che la nostra vita sia all'interno di questi misteri. Non so se mi sono spiegato. Abbiamo in noi la testimonianza viva dello Spirito Santo. Gesù ce lo manda dal Padre. Padre e Gesù insieme ce lo mandano. Lo mandano nel nostro cuore. Ogni volta che facciamo un atto di fede, ogni volta che chiediamo perdono della nostra incredulità, ogni volta che cerchiamo e lottiamo di sconfiggere il regno di Satana in noi e anche intorno a noi. Carissimi fratelli, con questo suggerimento, questa suggestione, vi do l'appuntamento per la prossima volta. Sia lodato Gesù Cristo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.